Siamo al telefono con Candido Di Felice, confermato alla guida tecnica dell'Ovidiana Sulmona. Mister, allora, è soddisfatto per la fiducia che ha avuto da parte della società? Sì, sono molto soddisfatto, li ringrazio e di tutto cuore, perché in questi tre mesi che ho trascorso lì a Sulmona ho visto la bravura di questa persona. L'ho detto pure nell'intervista che Sulmona finalmente ha una solità all'altezza della situazione, dopo tanti anni. Ecco, mister, come state lavorando per la prossima stagione? Stiamo lavorando bene, noi vogliamo fare una squadra buona che ci permette di stare lì su, poi vediamo, poi, su in classifica, in poche parole, stiamo allestendo un'ottima squadra, vogliamo allestire. Certo, quindi l'obiettivo è quello di non soffrire come è avvenuto nell'ultima stagione, ma è quello di andare ben oltre la normale salvezza in promozione, vero? Sì, vogliamo fare una squadra ambiziosa, perché Sulmona merita di avere una squadra ambiziosa. Abbiamo parlato, ma a giorni ci rincontreremo e valuteremo bene tutta la situazione. Qualche giocatore stiamo vedendo, stiamo valutando bene la situazione, per allestire una squadra importante per il cantonato. La squadra che avevamo non è male, è una buona squadra, però bisogna inserirci dei elementi per migliorarla. Quindi possiamo dire agli sportivi che il prossimo campionato sarà una stagione ambiziosa da parte dell'Ovidiano Sulmona? Sì, io sono un tipo che non mi nascondo mai, sono un tipo che dico sempre la verità, vogliamo fare una squadra ambiziosa e riportare Sulmona a due merita. Poi chiaramente dipende pure da tre squadre, però non è normale, vorremmo anche noi esserci con quelle 4-5 squadre che lotteranno perpendiculare.